musica e ciao a tutti ragazzi bentornati su super game sono sempre il vostro buon vecchio Valerio e il buon polis oggi siamo tornati su scrivernazza limited oggi daremo sfogo alla nostra immaginazione daremo sfogo alla nostra immaginazione e il bello che il personaggio quello che può sembra che balla povero maxwell perchè me lo prendi così tanto in giro ma è ritardato poi facciamo il fratello il fratello ah si giusto vabbè che facciamo partiamo? andiamo eravamo rimasti che era esatto l'abbiamo preso il 546 e adesso proseguiamo eccoci qua capitale vabbè giustamente siamo a roma ok allora cosa vuole questa? pallina che rimbalza fatemi divertire aspetta questa la so Gerry nignotte nignotte nignotte? si mignatta magnete che mettiamo? manette nignolo magone magone pancione magone pancione che mangiava le colpe? che cazzo? questo è il magone io non sapevo che è il magone che cazzo ha? il magone oh mio dio raga è bellissimo ma io rubo il magone nooo ma ora te lo li ruba perchè è magico no pensa se te lo li ruba bellissimo pensa che roba vabbè dobbiamo farlo divertire mmmm mmmm sesso aspetta 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 facciamolo così va perchè tu hai un vodka ahahah no raga dai ma lo trova manca un alcol me dai alano io do l'aloe tiè ma si fumano le carne ma si fumano le carne simpatico però questo ragazzo molto molto simpatico patina che rimbalza mmmm palla ehm alano ma si fumano le carne ho letto alano ma con un cane di diverso alano oh madonna tiè ma guarda quanto è brutto sembra quelli che mi compravano da piccolo quelli meccanici oh mio dio che cos'è una parata ti ho fatto divertire cioè raga guardate quanto sono fatti bene i personaggi gli animali sembrano quelli di toy story questo è il spettacolo guarda che brutto là c'è il centro pokemon dove ah è vero il pokemon marketing uh uh bene poi me ne ha il cane no guarda non ho buttato il cane ma l'hai buttato guarda io devo fare io non posso camminare aereo perchè non puoi camminare aereo perchè non puoi camminare aereo non mi vado a camminare no così è bruttissimo eh perchè se metti una tra volta aereo aspetta eh un oggetto piccolo veloce ecco ecco oh twipsy la la telepambis 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 mmm che cosa c'è qui dai aiuta quello con la macchinina eh infatti si la macchinina dobbiamo vedere ma che visuale è ma che visuale è allora ho parcheggiato dove non dovrei mmm e sta indietro di sosta ah io lo faccio cosi eh allora diventa sui testi aspetta aspetta carro attraverso carro attraverso in corda musica cos'è in corda musica mmm catena un montaggio strumento dove giochi erodici ed è carino oh nooo la macchina che vuoi che figo mamma mia raga è la porta via è fighissimo molta per parcheggio e regolare nooo beh dai ma sembriamo Hancock prendiamo le macchine io la parcheggio qua sopra mettila da su king kong no lasciamo perdere king kong smonta io quando pensavo no no io dove ho smontato l'aereo io quando penso al verso delle scimmie a me penso a medievil mmm eeeh oddio eh che aveva fatto il danno questo è la pace a giocare non giocare no vabbè caramè l'importante è che che sta fa? balla quello beh può essere dai la catena allora questo gli serve a qualcosa? quella ha 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 ehm guarda come sta messa attacciona i poliziati sono sempre guardi di sicurezza si vabbè dicono che è della sicurezza allora a chi serve aiuto? al graffito beh non lo so così brutto come così brutto? è abbellisci bello ah orrendo bello mi ha messo il cappello sopra ma che vuol dire? oh mio dio ma che cazzo? graffiti bello così brutto ragazzi ma giocateci anche voi dateci suggerimenti forse poco così brutto così orrendo di merda spugna e prova a pulire no? materiale spugna allora ah subito capitano subito 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 raccogliamo la spugnetta si ci puliamo la faccia ci puliamo la faccia ci puliamo la faccia? usa usa oh cioè aspetta io ho pulito un graffito e ho uscito fuori un mini parco dei divertimenti no un altro un altro con i peggio animali ma che è il mondo dei creatore meraviglioso ma che è? boh raga oppure la farfalla maglia che dico? a me piace volare col jet dammi un altro oggetto volante è jetpack no potete fare quello dell'aeree quello degli alieni oh il jetpack questo qua che vuole? è robin vestito da viola metti qualcuno nella cabina telefonica per farne un mio aiutante superman il superman sta sempre dentro alla cabina telefonica apposta e poi perchè se cambia dentro la cabina telefonica e ne vado male super gun non c'è che no 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 sendman l'altra volta guai sendman è il tuo turno trombiamo anche dentro per mai sendman è l'uomo del trombiamo è un uccello vedi è l'uomo del trombiamo vediamo un po' che altro c'è maxwell trial camps boh ah la leva ha bisogno di qualcosa di che c'ha bisogno la leva? crea una nuova fontana metti un oggetto nell'acqua vicino all'interruttore e quindi premilo un oggetto ma premi boh che ne so pene gigante bello pece pelle pello pello pera pera gigante ma ci sono cinque pagine ma esplorano pera parte anatomica ma come parte anatomica? è una testa ma come le interpretano le pere questo? l'interagisci io du pere conosco ma che cos'è? quando si dice che uno c'ha il cervello che fa acqua eh esattamente ma dai ma che cos'è? ma ne so ma ci tirano pure le monete come sul fontana di trevi madonna che bellucci però troppo chi è quello? oh vedi questo pezzo quello è un fattorino vieni più vicino per attivarmi ma un robot ecco cosa vuoi? mettimelo nel cuore giochi delle giostre partecipa ai classici giochi delle giostre per vincere dei premi e che dobbiamo fare? vediamo giochi delle giostre inizia sono diventato un clown lancia qua oh mio dio cioè già prima eravamo brutti eravamo schifo prima mo peggio peggio siamo peggio del gioco adesso c'è ma la tuta del lecce coi le scarpe di flash mamma mia e il naso dei patch adams e il cappello di chi? e il cappello di chi? e il cappello di... di irlandese del mezzo ok si ma noi abbiamo i capelli di Goku Super Saiyan livello 4 e che? no quello è il pelo il pelo il pelo il pelo rossi le giostre sono in città lancia qualcosa per buttare giù le bottiglie ma non superare la barriera che gliela lancia Luigi? ok no non lo so un cervello si quello che fa acqua di quello di lui no è il tuo no c'è il tuo cervello eh no un cervello no aspetta ma perchè gliela hai dato a lui il cervello? non lo voglio io il cervello perchè mi sa che è lui che non ce l'ha oh non sai mai visto un clown che ruba gli oggetti beh oh madonna ah sto schioppato così da tu oddio no è arrivato un clown ancora più brutto lancia qualcosa per far scoppiare i padroncivi senza superare la barriera se no sai chi sembra questo quello nostro eh quello che va negli ospedali a far risultare i bambini tipo il polo robin si però no no quelli che stanno adesso sono generali ah i clown quelli che vanno dentro all'ospedale si almeno lui è un clown serio ha gli occhi crocianti noi abbiamo un cane con le malattie cromatiche madonna vabbè che gliela lancio per scoppiare i padroncini? una bomba atomica ok facciamo un po' di casino un po' di kaboom oddio c'è veramente sembra una supposta ma lanciala a lui che ce la mettiamo oddio che bello clicca la testa di maxxor per centrare la camera la camera ah ok ehi ma non me la fa tirare nooo perchè boh no che brutto era figa cosa devi prenderla oh interagisci via aiuto aiuto clicca sul punto intero che dici clicco io oh aspetta aspetta oddio ma non è successo niente ma che è? e le macchie sono esplosi i padroncini ma siamo morti siamo in paradiso no si è resettato lì ma perchè adesso ho la testa verde? dai che brutto sembriamo un power ranger che dici? qualcosa di acuminato potrebbe far scoppiare i padroncini ma va qualcosa di acuminato supposta no supposta samusa che cazzo è samusa? supporto sapota sporta sposa si e lancio una sposa la sposa cadavere vai ciao clown è morto voglio trombare con te non c'è cosa ti ha appuntita? eh abbiamo pensato giù riccio enorme marino gigante buffo che c'è fuori? un madonna ahahahahah allora sul riccio ci diamo lo raccolto gigante ahahah ho raccolto un riccio ma sembra che c'è un negozio dei giocattoli devi mettere il cartoncino la miniatura devi mettere dai io lo devo lanciare questo ma non si lancia come vai a lanciarlo? ah io lo ho quale ahio mi hai fatto male cioè corello vabbè montiamo sopra sembra un pokemon è brutto questo mio dai mettiamo amo se no è come un vitro delle 100 euro palla acuminata che palla acuminata? palla no vitro è acuminata vabbè va bene pure una palla che palla? lancia ma stiamo abbiamo tirato una volta su esplaci tutti infatti lancia qualcosa per colpire la vasca per tutti senza attraversare la barriera ti sapi tu se va con tipo con i panini strani? lo facciamo con l'arco la freccia ok ti può fare? arco no arco arco vuoi mettere l'arco di rum arco sport eh grazie certo mo freccia devo fare no? attacca c'è Fatum sono legolas del signore degli anelli oooh starlight che cazzo ah abbiamo trovato il secondo starlight cammina da schifo pure dopo che si diventa grano che pedoni? i giochi del giusto completato andate al starlight 2 ciao ciao continua che è successo? ah ok perfetto e questo che vuole? oddio nooo pare morgan freeman pare è dio dio? morgan freeman è dio voglio andare per mare e buttate nuota vedi come vai eh penso ma perla nera aspetta o la no o un'anomale ma l'ho a fondo come fai da' un'anomale? come fai da' un'anomale? come fai da' un'anomale? noi siamo vivi noi ci salviamo ma se vi ma prenda dopo il mare dai ma noi stiamo sudando eh signore ah è andata a finire sott'acqua no è bellissimo raga allora quando lui corre sta così se nuota sta così come Gesù perla nera bella guardare la mia maglietta bellissima io amo questa maglietta aperta e chiusa parentesi nave titan no è brutta la nave è bruttissima ma c'è qualcosa di bello simpatico e dolce in questo gioco? questo si sta secondo me si sta masturbando bagnato volante? vola vabbè ciao sweeties sweeties ma perchè sudiamo noi? oh c'è andato lui da una parte e continua a sudare bon voyage bon voyage allo? nuota 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 ah come cacchio nuota allora vediamo un po' se c'è bisogno di fare qualcosa ma perchè sono tutti sudati? ne so abbiamo fatto esplodere una bomba dentro la città ho fatto arrivare un tsunami che manca? l'aeroplano l'abbiamo fatto una rapina in banca king kong king kong ciao king kong che fai? fammi re spacco famiglia spacco famiglia fammi re spacco famiglia poi devo fai spaccare la famiglia corona gigante bananosa bavosa 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 vai eccoti la corona gigante oh madonna è morto ti so se vuoi vedere quanto sta ma sti stronzi che noo è morto king quello di deck rotto oh ma come tu fai rotto e si 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 cadi eh che ne so ma perchè fai cadere tutti? eh hanno ammazzato king kong mi hanno ammazzato dai ma non stiamo a per l'albor ah intanto vedi la corona baffosa la corona sudosa all'esperto questo è sudoso ma si può vedere dopo quando stiamo vediamo qui si certo è questo che vuoi questo è magnum pi senza barba cosa volete quanto è brutto io triste non vediamo nulla ci sono le nuvole eh leva te occhiali da sole coglione vedi come vedi bene mezzo le nuvole tornato che tocca a fondo eh che tocca a fondo che tocca a fondo noo se li ho suicidati ciao posso fare lì ah ecco ah ecco ah ecco ah ah a pensato è tornato o va per cazzi su ma questo va comunque va comunque vabbè tornato è aria vabbè ma in realtà se ne vanno vento ventola che ci facciamo? ah manda via le nuve una bella giornata eh con una ventola bello tre vengo completato siiii che dobbiamo fare adesso ottimo lavoro vai alla fattoria da li li per sbloccare 9 livelli andiamo da li li? eh momento cosa penso contained è buona sa di merda uuuu il mondo pensavo che il mondo fosse il più grande oddio è riuscito alla merda della stella ah questo è il mondo eh no è tipo super mario è tipo super mario world guarda quanta roba abbiamo da fare si regà sono tanti eh come vedete sono tantissimi sono cinquanta stagite davvero già eh regà no, facciamo tre anni che andiamo avanti eh eh beh tanti non so ma che dobbiamo fare rimango basito ogni volta con noi la nostra prossima destinazione sarà il tubo di maria dai lasciamoci il tubo di maria penso siano le fogne ma che schifo ma poi ci stanno le tartarughe ninja io mi avevo dato dal cinema andate a vedere le tartarughe ninja al cinema bellissime deve escire ancora però io dico sempre a me la rete di deflusso della novità ah ecco la rete di deflusso da alle fogne eh si per forza va bene ragazzi anche per questo video è tutto un piccolo vlog un piccolo vlog cosa vuoi dire? quanto stiamo vedendo? non lo so adesso non lo posso vedere come? no perchè vabbè staremo in 10 minuti si vabbè facciamo un vlog rapido vabbè cosa vogliamo dire? allora dobbiamo in assolutamente dire una cosa che che piano piano stiamo aumentando che ci fa veramente piacere che comunque sia continuato a seguirci grazie ragazzi piano 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 dobbiamo riuscire ad ampliare la nostra famiglia perchè noi siamo una grande famiglia si siamo un e niente scusa se le cose non le sai dire ma stai zitto no? vabbè ma non voglio ragazzi veramente datemi una mano comprate io in cervello fate qualcosa per comprare io in cervello quello che scrive il nalzo non va bene quello che scrive il nalzo veramente adesso lo prendono da ma c'è quello col riccio fa così ah buongiorno io ho un riccio nuovo che poi pure le mosse a me pure non piace bene senza riccio del mondo dai poi è scoordinato questo è scoordinato ma che ammetteteci dottor house se lo scrive il nalzo almeno quella è sua poverica non ci accamina così madonna e vabbè altrimenti lo possiamo dire boh boh che ti puzza il culo vero e puzza il culo anche a voi tutti i fan nostri perchè se puzza il culo a me puzza il culo a tu perchè insulti i nostri fani? ma io non li insulto li rendo partecipi se siamo una famiglia puzziamo tutti insieme come dici l'uomo ha da puzzare che puzzano pure le donne le donne in porno puzzano sei schifo ma noi infatti diciamo solo gli uomini le donne abbiamo donne fan abbiamo donne fan grazie donne fan io saluto la nostra fan number one cioè la my girl ciao amore io saluto saluto ecco alla allora ho fatto il saluto speciale a Luca di Romero si ci ha fatto saluto Gesù di Nazareth si saluto la mia migliore amica si e poi saluto tutti voi tutti voi perchè sto video molto belli anche se non vivete ma tu sei più bello eh eh come quello del padre va bene ecco appunto va bene ragazzi anche per questo video è tutto noi ci vediamo in un nuovo episodio qui dal buon polis e dal buon corato è tutto ciao a io ciao